I once received such a beautiful experience, I was being very snippy, very, a little bit short, because I had been physically in a lot of discomfort. Here you will find spiritual inspiration from today's thought leaders, along with cutting edge insights from our interstellar brothers and sisters and ancient shamanic wisdom. Now, here's a new episode of Dare to Dream with your host, Debbie Dashinger. Welcome to Dare to Dream. This is Debbie Dashinger. Hey, beautiful people. Today, we're going to be talking about, and two, a true living modern avatar. My friend, my mentor, Sivananda Swamiji, who is here to talk about Atlantis, Lemuria, and the transition from the Kali Yuga to the Golden Age. Yes, we're living in it right now. Dare to Dream podcast won three talk radio positive change awards, won the COV award for the best radio on podcast show, Welp Magazine named Dare to Dream, one of the top 20 best podcasts to listen to this year. And it is high ranking under self-improvement on Apple podcasts. This show is sponsored by Dr. Dane Heer and Access Consciousness. They do energy work out into the world, and you can find them at accessconsciousness.com. I'm Debbie Dashinger. I'm a book writing coach. You can join my twice monthly Zoom class. I also independently take your book to a guaranteed international best-selling status. And finally, I'm a boutique publicist, so I help you get booked on radio and podcast. If you'd like a gift and you'd like to learn how to become way more visible in your world and in your work, go to Debbie Dashinger.com slash gift. That's D-E-B-B-I-D-A-C-H-I-N-G-E-R dot com slash gift. I have a great takeaway for you right now, because if you're ready for a vacation, I'm ready to take you on a vacation. You can join me on the Galactic Origin Cruise in December to the Yucatan. Indeed, I am speaking. I'm going to be talking about shamanism, about extraterrestrials, and also performing my medicine music with my band, Lions of Lira. So many phenomenal speakers that you already know and love are going to be speaking on that cruise. It is the Celebrity Cruise Liner. If you know anything about them, they are a luxury all the way. We're going to Belize, Costa Maya, Honduras, and Cozumel. And hey, there is a five-star restaurant aboard included, and entertainment and all the speaker workshops, plus the cruise. Mamma mia. And what else? The on-land excursions as well. Everything's included. So you want to go to portalatsea.com. Be sure when you go there and fill out the registration form under referrals, you click on either Dare to Dream or Debbie Dashinger. You'll need to do that in order to book your cabin. Again, I'm excited to cruise. I've never been to the Yucatan, and I'm so excited to meet you. So join me and many of the other galactic presenters for an amazing seven days at sea. Again, that is portalatsea.com. You want to book quickly before the cabins fill out. So excited today, my guest is Shivananda Swamiji, who offers a new multidimensional approach to healing the body, mind, and soul. Shivananda is the author of La Mia Storia, plus the English version, My Story, and The Infinite Embrace in Search of Divine Love. He leads global workshops, retreats, and sessions. Meeting Shivananda during a satsang is a powerful and heart-opening experience, one that initiates inner change. Unconditional divine love flows through him and touches your heart. Born in Puglia, Italy, Shivananda's extraordinary divine experiences shaped his mission on earth. Shivananda Swamiji stands in the lineage of the great Indian masters and is completely devoted also to Jesus and Mother Mary. Collaborating with master celestial healers, Shivananda's essence is to assist individuals in recognizing and resolving challenges from a multidimensional perspective. As part of his mission, Shivananda heads up the New Light Collective to build 27 ashrams, these locations worldwide. If you'd like to learn more, go to shivananda.org. And with that, I bring Shivananda and also his amazing translator, Shivanan Yama, who will not be on camera for this, to the Dare to Dream show. Welcome. It is so great to have you. Thank you so much. Namaste. Namaste. Namaste, Debbie. Thank you for inviting me to this, your transmission. Thank you so much. Thank you for inviting me to this, Shivananda. Thank you. It's my honor. And the timing, especially with your mission, feels very beautiful because I'm hoping that we will reach more people who can understand at this very auspicious time what it is that you're committed to creating. I hope that in this moment, what is your mission, what is your mission, what you're trying to create, what you're trying to create, what you're trying to bring to the world. Thank you for the question. He would like to introduce himself. Thank you for the presentation you gave of him. In reality, what we are experiencing going through in this great time of passages and changes. So, the ascension of the planet is opening up us to new dimensions, new planes of existence. He's only here of service because he's an instrument of God, of service to love, of service to the light, manifestandomi nel mio io sono. And he's manifesting himself as an I am, as the I am. Nel mio divino maschile, nel mio divino femminile. In his divine masculine energy, but also divine feminine energy. Portando un flusso divino, cosmico, che fa parte della nostra multidimensionalità. Bringing divine cosmic love that is part of our multidimensionality of our being. In questo momento le energie ci portano ad accogliere la terra e il cielo. So we have to welcome the earth, mother earth, but also the father sky. Unire queste due energie in questo momento divino, storico. And unite these two energies in this historic moment. Questo passaggio in Satya Yuga. We are going into Satya Yuga, the golden age. Questo grandissimo ciclo dove realmente entra l'abbondanza nella nostra vita. So this new cycle where abundance will finally come into all our lives. Quindi tutto si trasforma velocemente. And everything transforms and changes very quickly. E la mia missione, la mia incarnazione. So this incarnation and his mission in this life. E accelerare questo processo. Is to speed up the process. Aprendo, muovendo a livello collettivo, prendo coscienza del divino amore cosmico nelle anime. To open the consciousness of people and open them up to divine cosmic love. E ad aprire la via della propria illuminazione. So opening yourself up to your path to enlightenment. E realmente è il mio, la mia mission, il mio dharma. So his mission, his dharma. E portarti la mia esperienza. Is to share his own experience with you. Che illumina la tua esperienza. That enlightens, that enlightens your experience. La mia visione, io ho bisogno di te, tu hai bisogno di me. So he needs you and you need him. Abbiamo, c'è uno scambio. There is an exchange. Una, un fluire che ci dà la possibilità di fare l'esperienza nella vita. And a flowing quality that allows us to have experiences in life. E questo porta magia nelle nostre vite. And this allows for magic to happen in our lives. Io cerco di portarlo con semplicità. His mission is to bring it in a simple way. Con una, con una radice profonda alla Terra, Madre Terra. And with a deep root to Mother Earth. Perché la Terra ci dà, no, la luce bianca. Perché Mother Earth ci dà il seme della Shakti. So she is the seed of the Shakti, the feminine energy. Risveglia il femminile divino. And she also awakens the divine feminine in all of us. E quando la mia Shakti è risvegliata, il mio Shiva. So when my feminine energy, my Shakti energy is awakened. Il mio Shiva prende forma. Quindi entro in questa risonanza, è legge dell'universo. Quindi è un momento dove tutto si unisce, la Terra e il Cielo. So we unite the sky and Mother Earth. Si illumina nel cuore, no? And all of this enlightens your heart. E risveglia questa coscienza del Cristo, che è l'energia divina dell'amore. And it allows to open to the Christ consciousness, which is divine cosmic love. Quindi la mia conoscenza porta il seme che è la stessa sostanza, è il mio stesso respiro in cui sei tu in questo momento. Quindi la mia illuminazione illumina la tua illuminazione, ma la tua illuminazione illumina la mia illuminazione nella famiglia, nella sorellanza, nell'amore. So his enlightenment is able to enlighten you, but your enlightenment enlightens him too. It's like a family, sisterhood and brotherhood. Questo è il nuovo mondo. This is the new world, how it's going to be. I love what you just shared, and I take exception to one thing. C'è una cosa che vorrebbe dire. And that is when you said your work is simple work. Ah, che il tuo modo che porti le cose in modo semplice, no? Però non è facile in quel senso. Because having experienced, and I have first-hand experience, of living with you and the others at the ashram, Essere stata qui con noi, no? Yeah. This is not simple work, what you do. Non è facile quello che fai, però lo porti in modo semplice. This is profound, in my experience, this is profound and tireless, dedicated work. No, hai il modo di lavorare senza sosta, no? Ti diretti completamente il tuo lavoro, la tua missione. Yes. And just because I want to be very transparent in this, that this is... Lei vuole essere molto trasparente in questo. No, this is also a matter of my heart, because of all I witnessed, you abundantly give to people over and over, even when you were injured, you kept going. Hai continuato a dare, non? Continui sempre a dare a noi. To heal other people. So, I love everything you shared, but I don't find your work simple. I find it so loving and generous and profound at this important time. È molto profondo quello che fai e portai, non in senso di facile. Thank you. Io cerco di portare... He tries to bring... Quello che porta l'amore, che è la semplicità. He tries to bring what love brings, which... Love is simple, in a way. L'amore crea la semplicità perché crea il flusso... Because it creates a flow... Dell'energia. Of how the energy flows. E quando tu sei al servizio... When you are of service... Sei semplicemente con lo strumento. You are simply an instrument for that. E immagina questo flauto. Imagine a flute. Tu sei... Proprio il flauto, il canale. So you're the chairman, you're the flute. Ma quel flauto suona con il soffio divino. But the sound comes out through the divine breath. E tu non crei... La nota, la melodia, la musica. So it's not you creating the melody or the sound. Ma che è Dio che... It's just God. In questo channel... Ti attraversa. So God flows through you. E quindi attraverso l'amore... Fluisci. And through love you're able to flow. E realmente i miracoli non è che li crea... I miracoli non li crea Shibananda. I miracoli li crea... Lo strumento dell'amore. They are created by the instrument of love. E questa... Debbie è la... È la storia di ogni anima sulla Terra. Io so di essere figlio del padre e della madre. Sono prediletto. He knows that he's the son of the mother and the father. And he's blessed. Dio mi ha benedetto per essere qua. He was blessed to be here. Anche se, come hai detto tu, non è semplice il mio messaggio sul mondo. And as you said... His message is not easy for the world as such. Or simple. E... Perché realmente... L'essere umano... Because human beings... Non ha paura dell'ombra, ma ha paura della luce. Human beings are not afraid of the dark, or of the shadow. They are afraid of the light. E quindi essere lo strumento, no? Portare quello che in qualche modo... Lo porto con grande potenza, grande forza. He brings what I really brings with great force and power. Ma la forza arriva non dall'individualità. But this force doesn't come from his individuality. Il nostro potere... Our power... Viene amplificato nel noi, nel collettivo. E immaginate, no? Un grande alveare. Imagine a great beehive. E questo alveare c'è... Ci sono le api che hanno... Ognuno ha il suo compito, il suo ruolo. Every bee has its own role to play. E poi... L'alveare c'è una peregina. But there is also a queen. La peregina... Ha il ruolo di portare... Ha un ruolo armonico, no? She's sort of the harmonizing force. E la peregina canalizza le frequenze del sole centrale. And she sort of channels the frequencies of the central sun. Ed è esattamente il nostro... È la nostra essenza. And this is the same for us. Allora, in quell'alveare, Per poter portare l'abbondanza, l'amrita... Per poter portare il flusso dell'abbondanza... C'è bisogno che c'è la peregina... So you need a queen... E le api maestre dell'alveare. And all the other bees... Senza l'aperegina non ci può essere l'alveare. So without the queen there is no bee hive... E senza le api non ci può essere l'aperegina. Proprio per creare il nettere. To create the nectar. Ed è realmente il nettere che manca alla terra. And this is the nectar that is missing on earth. Perché il pianeta terra non ha più nettere. È diventata amara la terra. Because earth has become bitter. There is no sweetness anymore. La terra è amara. Earth is bitter. E allora per poter rendere e creare il nettere divino... So we are able to create a divine nectar. Abbiamo bisogno di unire insieme. Dobbiamo essere uniti. We have to unite together. We have to be in unity. Risvegliare l'amore per la terra. Awaken our love for us again. And also for brotherhood and sisterhood. E unire il cielo. And unite with the sky. E portare tutto nell'uno. Non possiamo più pensare con uno... Con un pensiero che è... Si muove nel duale. With the thought that works in duality. Nell'identificazione. Or in the identification by identifying with something. Ora è il tempo di vivere e muoversi nello spazio attraverso le frequenze. It's time to move into space through the frequencies. La... Riprogrammare i nostri pensieri e la nostra mente alla frequenza. We have to reprogrammare our thoughts and our mind through a level of frequency. La mia forza, il mio dono, la mia... È semplice. È semplice. Perché quando scegli l'amore... Non identifichi più niente. You don't identify with anything anymore. E hai scelto l'amore e cade il libero arbitrio. So you choose love, so there is no free will anymore. Scegli l'amore, cosa hai in più da scegliere? If you choose love, what else is there to choose? Sei al servizio, perché in quello spazio tu sei divino. Because in that space you are divine. I understand. I understand. Thank you. Your book, La mia storia, starts with your childhood. And... Yeah. Your childhood, you talk about your love of nature, your love of horses, your love of freedom. Sì. La natura, gli animali, gli avali, il tuo amore per loro. And you grew up in this very natural landscape, in a beautiful, modest home in rural Apulia. And you felt free and connected to everything. But you were introverted. Eri connesso con tutto, però eri molto chiuso anche in quei tempi, no? Però sei cresciuto in un ambiente, come diciamo, molto naturale. Yes. È stato... È stato un bellissimo... Beh, sono stato fortunato. He was fortunate. E ho avuto la grazia di crescere in una famiglia molto umile, semplice. So he had the grace to be born into a very humble family. che aveva una fattoria nella zona rurale della Puglia. So they had a farm in sort of a very rural area of Apulia. È una zona molto... con il sapore di quello che è la terra, l'Italia, no? Conservata. So with the perfume, the fragrance of Italy, of nature. E quindi... Ma una terra dove tanti santi sono nati. But this is also the land, the area where a lot of saints were born. Realmente in Italia, in Italia, si sono incarnati tanti santi. We had so many saints incarnate in Italy. Grandi poeti, artisti... Great artists, poets... Maestri. Masters. E la Puglia, in particolare, porta la nuova Gerusalemme. So this Puglia is also the new Gerusalemme. It carries this energy. Porta un flusso di energia cristica molto potente che sale da questo quarzo della terra. So it has a sort of a Christ consciousness energy that comes from the quartz, the crystals that are underneath the earth. Da bambino ho avuto la grazia di lasciare la mano a mia madre, a mio padre e iniziare ad esplorare la natura. So he was able as a child to explore nature in a free way. E vivendo lo stupore. And he was very sort of surprised about everything. La sorpresa della scoperta. And how he would discover things. E quindi sono cresciuto in questa famiglia dove mio padre lavorava. E cattolichi. Oh, he grew up in a Catholic family and his father was just a worker. Con una visione di quello che è la massima espressione dove Gesù e Maria prevale la propria bellezza. E quindi realmente non c'era, non sono cresciuto in una famiglia spirituale. So he says he didn't grow up in a spiritual family as such. Però c'era qualcosa dove la mia famiglia, mia nonna era una sensitiva. So his grandmother, she was sort of very sensitive. E le anime arrivavano, parlavano con lei. People would come to her and they would speak to her. E mio padre è un'anima molto profonda, in essenza. His father is a very deep, profound soul. Molto semplice, mia mamma molto semplice. They are very simple people. Hanno dedicato la loro vita, no? Come un po' una parte del sud dell'Italia, la famiglia, la casa. Ma io da bambino sentivo che c'era qualcosa che non era il mondo in cui io appartenevo. So he could feel as a child that he didn't really belong here. E quindi ho iniziato ad esplorare. So he started to explore. E iniziare a fare le mie prime esperienze divine. And he had his first divine experiences. Però sentivo che avevo un tempo molto corto. But he knew that he didn't have much time. Mi ricordo che nei miei sogni c'erano dei sogni in cui tutto finiva velocemente. He had dreams where everything would end very suddenly. E realmente è stato così. And this is what happened. Ho vissuto la mia infanzia fino a 16 anni. Vivendo un'esperienza meravigliosa della vita. And he had a beautiful experience of life. E i miei genitori non avevano nulla. Non era gente ricca. Non erano benestanti. Erano delle persone molto semplici. Quindi realmente sono... Da bambino mio padre e mia madre mi ha insegnato a mantenere l'umiltà. E con una chiarezza, no? Vuoi qualcosa? Devi... Devi creare qualcosa. Per prendere qualcosa, no? E questo mi ha insegnato molto. Poi a 16 anni ho avuto un incidente. And then at the age of 16 he had an accident. Con il mio primo motorino. So, like a motorcycle. E lì c'è stato un passaggio divino, cosmico, stellare. Vivo questo processo entro nove giorni in coma. Vivo questo processo di coma, di esperienza. Dove vivo un'esperienza... So, you was nine days in coma at the time and had some profound experiences? In tanti livelli. I want to ask about that, if I may. Do you ever have a kid that you don't pose a question as well? Yes. So, your born name was Francesco. And around age 15, you were riding on a Vespa. You were hit by a car. You went into this nine-day coma. and awoke with 18 broken bones and broken feet. That's... Maybe not a little too long. Yes. I think I meant it. Yes. And I know that you have, while you're in a coma, after reading your book, that you have these profound cosmic experiences while out of body. Yeah. Anche for in the corpo. Mm-hmm. Yes. And so, you have this experience of being a walk-in. And I don't know that many of us fully understand what that is. So, did you consciously experience Francesco leaving and another being taking over? What was that experience like for you? And was it comfortable or confusing? Lei dice, non crede che molte persone sanno che cos'è questa esperienza? E chiede se tu consciamente hai fatto questa esperienza di un'anima che se ne andava e un'altra che entrava. E che come... cosa ti ha accasato? Come l'hai sentita questa esperienza? E questo processo si chiama walk-in. Yes. So, it's a walk... because it's a walk-in experience. So, in un certo momento, in questi nove giorni dove ho esplorato nuovi stati di coscienza. avendo una visione chiara di come la Matrix crea questo circolo di samsara, dei semi della nostra incarnazione, cosa... vivendo, entrando in uno spazio, no, di conoscenza. So, he stepped into a space of knowledge. He also understood the cycle of reincarnation and samsara. E poi attraversando stadi, livelli di coscienza in altre dimensioni. And then he had sort of another dimension that he was able to access different levels of consciousness. E vivendo questa esperienza, no, dove fisicamente ero, io ero distaccato dal corpo fisico. He was above his physical body or detached from his physical body. I primi due giorni osservavo il mio corpo. The first few days he would just watch, look at his body. Mi sentivo un po' spaisato. He was sort of a bit out of space. E poi ho iniziato a muovermi nello spazio. E ho iniziato a vedere altre anime come me lì, in quel momento. E ho iniziato a vedere altre anime come me, in quel momento. Osservavo la mia famiglia dietro questa... dietro di disanimazione. E il mio corpo era intubato. E poi c'è questo tunnel si apre di luce. And he saw actually a tunnel opening up, a light tunnel. Un multidimensionale. Multidimensional. Con dei filamenti energetici plasmici. So, some energetic threads, plasma energy. Arcobaleno. Rainbow. Che rilasciava un'energia così potente per il mio corpo di luce. And they were sort of attracting his light body in such an intense way. I sentivo di incanalarmi in questo portale. And he felt the urge to go through this portal. E così è stato. Io sono entrato in questo portale e ho iniziato il mio viaggio. So, he stepped inside this portal and that way he's journey again. Nel momento io mi sono ritrovato davanti a una grande presenza, il nono giorno. And then on the ninth day he found himself with this very presence. Una... Era un'esperienza così... It was such an experience. Potente. So powerful. Nella presenza di qualcosa che era senza forma. To be in the presence of something that had no form. Riconosco la fonte, che è il sole centrale galattico. He recognizes the source of everything, which is the central sun. E una voce che mi dice che questo tempo era finito. And the voice told him time is up. È un'anima nuova. And a new soul. Un'anima che è con divino accordo. It was sort of a divine agreement. Un passaggio dove nel corpo entra l'anima di Shiva Nanda che... Ha portato i primi anni dopo questa esperienza. Io non avevo difficoltà nella famiglia, a scuola, con gli amici. Non ricordavo. So the first few years after this accident, this experience, he had difficulties at school, with friends, with family. He didn't remember. E per 3-4 anni sono stato veramente in un dolore molto profondo. And for 3-4 years he was in a space of pain. Non riuscivo a comunicare, nessuno riusciva a comunicare con me. E quindi ho elaborato questo passaggio per lunghi anni. So he had to process all of this through the years, for many years. Ma tutto quello che era intorno a me era magia. But everything that was around him was magia, illusions. Era matrix pura. Pure matrix. Potevo osservare i pensieri che creavano realtà nella mia famiglia. He could watch, for example, thoughts in his family that would create the reality. Io non potevo esprimere la mia verità, la mia forza, la mia esperienza. But he could not share his own experience, his own strength at the time. A 18 anni ho scelto di... Ho indossi questa maschera di matrix in un certo momento. So either you put on the mask of the matrix. Io non ero consapevole che era la mia esperienza. He was not aware at the time that this was going to be his experience. Quindi ho indossato la maschera che tutti noi indossiamo. So he wore the mask that we all wear to operate in this world. E ho iniziato a vivere. And he started to live. Due verità. He had with two different truths. L'esperienza che ho vissuto, che potevo portare sulla Terra, ma che nessuno riusciva a comprendere. Non avevo gli strumenti, non avevo i mezzi. Io ho scelto per la verità, no? Per poter... Realmente... Io ho creato tutto questo. Perché questa è la mia esperienza. Ed è l'esperienza di ogni individuo sulla Terra. Io ho vissuto la Matrix, l'ho... Sono stato avvolto tanti anni dalla Matrix. Con un dolore infinito. Il mio dolore era... Non riuscivo a realizzare. E la forza sono stati gli animali. Mi hanno aiutato i cavalli. I cavalli sono entrati a 18 anni nella mia vita e mi hanno... Mi hanno accolto, mi hanno ascoltato. Mi hanno dato la cura. Ma semplicemente per stare... Incianti, calmo. E dandomi una comprensione molto grande ai cavalli che dovevo aspettare. E dovevo imparare a avere pazienza. E allora con i cavalli tu impari la pazienza. Perché i cavalli sono portali di luce che hanno... Hanno amore incondizionato, senza fine. They have unconditional, endless love. They are a portal of light. E questo è durato trent'anni nella mia vita. And he's worked with them for thirty years. Trent'anni. Thirty years. And what is it like, Sivananda, now to be you? So, for instance, when you look at me, what do you see? Do you see my past lives? Do you see my weaknesses, my gifts? Dice, com'è essere adesso Sivananda? Come sei adesso? Quanto vedi lei? Che cosa vedi? Vedi vite passate? Vedi i suoi punti dolenti? Cosa vedi? Quanto vedi qualcuno? In realtà, quando io cerco di non vedere... He tries not to see. Perché non si può entrare nello spazio degli altri, no? Se non c'è una consapevolezza che accoglie. So, you cannot step into someone else's space unless that person welcomes that. Non sarebbe l'intelligenza divina. So, this would be against divine intelligence. Ma quando tu mi accogli con la tua consapevolezza, è chiaro, si aprono dei, arrivano intuizioni, visioni, si aprono dei portali che mi portano poi davanti al seme matrice che deve guarire. So, but if you welcome him into your space, then it's like portals and intuition come to him and he's able to see how to heal your source, your seed, your soul. I imagine that must happen, for instance, when he does a darshan, which is, for folks who don't know, that's a blessing, right? It's a healing that can be done individually or in a group setting. So, I imagine when Sivananda facilitates a darshan that he must be able to access this or feel that he has permission to look that deeply into somebody. Allora, quando lei dice quanto fa il darshan, che sia individuale o nel gruppo, allora lì hai la possibilità di vedere perché noi gli diamo il permesso di entrare. Yes, è un momento, certo, il darshan è un momento cosmico, collettivo, individuale, è un momento di grande guarigione, che si muove attraverso la tecnologia. ovviamente che Sivananda porta attraverso il sole centrale, il pianeta Sirius, ma poi si connette alla tecnologia di chi entra nella frequenza del darshan. Quello che sto cercando di insegnare alle anime è anche attraverso il darshan, perché a parte, chiaro, è una guarigione individuale, fisica, emotiva, che si muove nei tre piani di coscienza. Dove realmente questa tecnologia ha bisogno, essendo tu strumento in quel momento, sto cercando di insegnare a non fare niente durante la guarigione. Realmente siamo abituati nelle guarigioni, o perlomeno la mia forza, il mio canale, la mia fonte di ispirazione. E' che, no, è il sole centrale, è la sorgente. E allora, se noi in una guaritori, per anni abbiamo mosso energie, for many years, formulando pensieri, magie, we were doing healings with all sorts of techniques and calls, tecniche, abbiamo sperimentato di tutti, abbiamo sperimentato di tutto. In realtà non serve a niente. In his experience, it's of no use. Quello che serve è che tu sei uno strumento dell'amore. All it's needed that you are an instrument of love, e la tua mente, and your mind, deve essere connessa al sole. Has to be connected to the central sun. Abbiamo bisogno di imparare a collocare la casa della nostra anima. We have to learn to know where is the home of our soul and our body. E se io vi faccio una domanda, ma dov'è che è la casa della tua anima? Dove vive la tua anima? So if he asks you where does your soul live in your body, some say in the heart, solar plexus in my eyes, la nostra anima è qui. So this is where it is. At the back of the head, in this point. E poi, no, riceve l'energia divina, receiving the divine energy from above, la tua consapevolezza cosciente through your aware conscience ti porta al sole centrale, alla fonte. La tua anima non è altro che è un frammento del sole. e la tua anima è la stessa sostanza di quel sole che alimenta l'intera esistenza. So your essence of your soul is the same as the central sun that keeps everything alive. Let me ask a question, please. Yeah. I witnessed when you do darshan's that you're talking, the best way I can describe it to my perception is you're literally in conversation with a being or beings that are not present, that we cannot see because I've seen you commune and receive information. in fact, sometimes it feels like direction as to what to do next or what to give to somebody. Is that correct? And if so, to whom are you speaking and communing? Okay. Lei dice dalla sua esperienza diretta sembra che tu stai comunicando, ricevendo comunicazioni da qualcosa, da qualcuno. Yes, parlo con i codici. And he speaks through the light codes. Con i codici solari. Solar codes, light codes. E' la tecnologia che viene rilasciata attraverso i nostri fratelli di Sirius. And this technology comes through our brothers and sisters of Sirius, the planet Sirius, the blue brain. E' uno dei canali di... E' lo strumento, una delle tecnologie che ho ricevuto. This is one of the technologies he was gifted with. E' allora costantemente, nel momento in cui... nel Darsha, dove le energie sono... Dove le energie sono... Entrano in uno spazio di onnipresenza, onniscienza. So where there's energy of omnipresent, onni everywhere, high energy. E' la comunicazione è ecco la fonte. Se tu non comunichi con l'universo, con i codici della sorgente. è uno scambio, un abbraccio di... uno scambio di luce nel ricevere, nel dare, nel muovere l'energia nello spazio, nella dimensione giusta. Sai Deborah, ho visto tanti miracoli nella mia vita. Ogni giorno la nostra vita è un miracolo. ma realmente parlare di miracoli un po' spaventa. Realmente non siamo abituati ad accogliere i miracoli. E realmente la domanda è questa. Ma sei pronto a ricevere il miracolo? Allora se la guarigione entrerà se tu sei pronta a riceverlo. ma tu devi essere strumento, tu non devi fare... Tu devi essere attraverso il cuore la tecnologia che tu porti. e tu devi essere attraverso il cuore e utilizzare la tecnologia che hai. Can we talk about extraterrestrials, please? Perché you open this beautiful doorway for this conversation. and I want to preface this for the audience first to say I know some of this information is serious as in serious not the planet. but I want to be really clear that my experience of Sivananda Swamiji is that he is also a multifaceted being and full of joy. love of music, his love of food and celebration. amore per la musica, mangiare, celebrare. The life is joy. Life is joy, right? Yes, and also so refreshing to me because on this show we talk a lot about extraterrestrials that I would meet a Swami who speaks so openly about this. And he dice it's very refreshing to find a swami come te che parla di questo no? Generalmente ha molte persone che parlano degli extraterrestri durante i suoi conti. So if I may be so bold can we pull back the curtain into transparency because I would really like to know who are you in relationship with because my sense is you have ongoing ET relationships. La sua sensazione se puoi essere trasparente su questo che tu hai nei contatti diciamo and what is that relationship like? E com'è questa relazione? Che tipo di relazione? I contatti con i fratelli delle stelle stelle family dal 2017 2017 In 2017, entro vivo un'esperienza divina, cosmica, dopo un viaggio in India, riesco a prendere il potere, a liberarmi da questo flusso di Maya che... Vivendo tutte le esperienze della vita, relazioni, è arrivato mio figlio, ho sperimentato l'amore del padre, della madre, l'amore del figlio, ho avuto i soldi, li ho persi, quel ciclo era finito. Ho avuto la forza di essere e allora di aprire e andare oltre il velo di Maya, perché è veramente la mia esperienza per incoraggiarti, perché è possibile. Certo, dice Shivananda, tu sei un walking, è semplice per te. No, no, questa è la nostra essenza divina, io ho solo ricordato attraverso quest'anima. Sono qua per portare un esempio. E poi c'è, no, se tu vuoi chiamarmi maestro, guru, santo, swami, Shivananda, ok. E allora, io voglio solo prestarti la mia esperienza. Allora, quando ho vissuto questi nove giorni di Samadhi, ho rivissuto quell'esperienza ma aprendo nuovi stati di coscienza e interagendo con la luce divina cosmica e l'attivazione, no, del nostro potere multidimensionale che ci connette poi alla famiglia galattica. Accade a tutti. Ho avuto la grazia di poter avere questo scambio e di aprire questo canale piano piano. E quello che tu hai vissuto qui nell'ashram, io posso dire che in questo momento, no, chi è stato qui con me sa esattamente che sopra all'ashram c'è sempre una grande astronade. So those that are here, they know that there is a spaceship above e che abbiamo avuto tantissime esperienze e avendo un contatto molto diretto anche durante le cerimonie del cuore attraverso la mia puja che muove la terra, muove il cielo, muove l'energia, i veda, la preghiera. So when he works with the Vedas, the prayers, the fire, the earth. Le stelle ci ascoltano. The stars are listening to us. I fratelli sono qui ora per... Well, they are here now. Sono... e tutto è già pronto. Everything is already... E' chiaro, un suami, io parlo della nuova energia. He speaks about the new energy. E porto quello che è la tradizione, il veda, la via del Vedanta che porta conoscenza cosmica attraverso i mantra. Sort of the traditional Vedanta and mantras that come from ancient India because they carry the knowledge. They have knowledge, cosmic knowledge. L'esperienza abbiamo... Ci sono sempre astronavi sull'ashram che... visibili, ok? Abbiamo avuto esperienze dirette qui. Ho avuto dei contatti molto vicini con i nostri fratelli siriani. Ci sono dei testimoni che hanno vissuto esperienze molto forti qui. Presenza dei fratelli. E c'è una... E' chiaro che una parte di me è connessa alla famiglia. So one part of him is connected to that family. Ma in questo momento tutto si muove. Everything happens now. E' chiaro che l'Avatar porta l'energia della Terra, l'energia cosmica a un contatto diretto con i fratelli galattici per accelerare il processo di ascensione planetaria. So the Avatar of course has connection also to the stars because his role is to speed up and help this ascension process. Quello che sto vivendo in questo momento è l'esperienza che porta il flusso di quello che è sarà il mondo nei prossimi vent'anni. So he's actually leaving the flow that will actually happen in the next twenty years coming years. La comunicazione con i fratelli. So the communication with our star family. è la grazia divina però presto, molto presto ci saranno degli eventi che cambieranno completamente la visione e loro sono lì per supportare questo passaggio, questo grande momento. è chiaro che i nostri occhi non possono vedere ma la materia è eterica connessa alla loro dimensione ma ci sono già le astronavi pronte al supporto e al passaggio che... So there's all ready starships ready to go to support and help. May I ask, so when you refer to the next twenty years and this is a question I've asked many experts and also many people on this show who channel extraterrestrials. Anche molti che fanno channeling extraterrestrials in other extraterrestrials podcasts. Yeah. What is your knowledge when first undeniable open contact with extraterrestrials on this planet will occur? Meaning that no one can then deny it. They will... I can't use the word land because that's so archaic. Yeah. but when they will come and it's undeniable is there a year is there a time frame you know about and who might it be that will visit us? Okay. Lei dice ha chiesto ha fatto questa domanda a molte persone se si può dire quanto loro si faranno vedere che diciamo tutti ne saranno consapevoli non si potrà più dire che non è vero se hai un anno se puoi dare un periodo e chi saranno? allora intanto sappiamo vabbè adesso sappiamo che la parte oscura we know that sort of the dark forces i governanti del mondo ok? so those that rule the world realmente i governanti di questo pianeta i politici non sono l'oscurità allora hanno solo hanno solo venduto l'anima al potere al sesso al successo sopra sopra c'è un'oscurità più attraverso razze rettiliani no? realmente il gioco di questo momento sapete che cos'è? so the game that they are playing right now is è che l'energia oscura the dark forces ha diciamo negli ultimi duemila anni tremila anni ok? ha preso il comando del di quello che è la parte animica dell'essere umano so they were the owners so they took over sort of our most deepest part of our soul ma non è solo il pianeta terra sotto il controllo di questi esseri però questa coscienza collettiva che si risveglia sta liberando no? cosa accade? accade che i fratelli supportano attraverso i codici della saggezza attraverso i codici solari attraverso i codici no? i codici dei no? dei pianeti siriani arturiani ognuno ognuno ha il proprio compito e poi c'è una parte di anime scelte che hanno già sono già in un cammino galattico cosmico che arrivano dalla non dalle prime stelle delle pleiadi sono stellari che portano qui sono qui per portare un messaggio questo messaggio sta risvegliando la coscienza collettiva galattica cosa accade? cosa fa l'oscurità? l'oscurità ha lavorato per no? manipolare riprogrammare questo Kali Yuga con degli impianti no? con dei chip che portano hanno portato dalla nascita hanno abbassato le nostre effetti attraverso l'archetipo della religione la cultura la tutto quello che è la dualità dualità ok? i film la comunicazione comunicazione allora è chiaro che l'oscurità entra ti avvolge quando la tua frequenza e la tua vibrazione è bassa il potere oscuro che vuole comandare il mondo la prima cosa che fa è toglie toglie la parte animica la parte spirituale e li entri a pieno potere nella matrice quando entri in risonanza con le leggi divine universali e ti muovi in termine di frequenza immaginate che quella energia viene la tua vibrazione si espande e l'oscurità viene dissolta dalla luce la luce ha già vinto sull'oscurità il compito dei fratelli dei nostri fratelli galattici in questo momento ha un ruolo fondamentale e immaginate che i nostri fratelli galattici in questo momento stanno contenendo l'energia di questi pazzi i fratelli non possono intervenire in Israele non è questo il compito il compito dei fratelli sarà se qualcuno muoverà il nucleare allora i fratelli sono pronti ad intervenire e allora fino a quel momento se non ci sarà la possibilità se la coscienza collettiva continua a crescere e più anime si distaccano dall'oscurità attraverso la propria esperienza nella coscienza e allora il tempo potrà essere un po' più no? ci sarà più spazio ma se in quel momento c'è come arriva perché la pazia umana e l'oscurità è fuori controllo ormai parliamo di distruzione di massa parliamo di depopolazione mondiale perché c'è il controllo il controllo ma quel controllo può essere più anime vengono risvegliate io grazie per la comunicazione che porti perché tanti esseri di luce si possono riunire in questo momento non separare la forza l'unità l'unione che i maestri si uniscono su questa terra non che si separano e anche nella parte spirituale c'è ancora un velo di separazione abbiamo bisogno che gli esseri di luce sotto il comando della federazione galattica sotto la coscienza del Cristo possono unirsi per guidare il mondo a risvegliarlo a risvegliarlo questo è io ecco la mia visione è questa la mia visione è questa e i 27 luoghi che nasceranno the city of new light nel mondo è il futuro la comunità la famiglia perché il futuro è comunità è la famiglia è la famiglia nomiamo la terra noi stessi the more light we bring and this is how obviously we heal humanity and the planet so aiutiamo l'umanità il pianeta tanto luce guarigione and this is how we heal separation come no non creiamo più separazione guariamo questo because the benevolent beings are waiting to bring us in usher us into the galactic community così possiamo entrare nel mondo galactico diciamo and to increase that timeline because I hope it's in my lifetime that I get to be with them e spera che nella sua vita sarà possibile vivere questo yes lo vivremo questo lo vivremo però dobbiamo ricordatevi che ci saranno dei momenti che saranno difficili per l'umanità ma ricordatevi che la luce proteggerà la vostra coscienza sarà protetta dei fratelli non preoccupate in questo momento dovete stare nella luce nella preghiera nella devozione immaginate che 10-12 mila anni fa i nostri fratelli di Lemuria di Atlantide Lemuria era connessa a Madre Terra ma aveva una tecnologia super avanzata ho fatto questa sera ho raccontato nel mio gruppo qui nel Sanzanghi Nasceremo ho fatto un sogno in questo sogno mi sono seduto entrando nell'incarnazione di Lemuria e Atlantide è stato un sogno incredibile una grazia ricevuta un grande miracolo vivere quell'esperienza perché realmente i sogni sono i viaggi della nostra anima e quindi la mia anima ha viaggiato in quella in quella in quello spazio mi ricordo che ho visto di astronavi questi gruppi di uomini che respiravano la Terra nella dolcezza e nell'amore la nostra casa questa è la nostra essenza e ho visto sottomarini cristalli cristalli che usavano la tecnologia del Sole centrale galattico era tutto già fatto è tutto già fatto dentro di noi e tu arrivi qui essere di luce perché tu se hai attraversato l'Egitto hai attraversato le muri è attraversato l'Atlantide e hai attraversato altri pianeti il seme delle plei tu sei l'essere stellare e sei più grande della manifestazione della Terra sei più antico perché prima il creatore tu sei stato testimone della creazione e questa è la verità tu è noi siamo le stelle e in questa epoca in questa incarnazione dobbiamo incarnare la Terra essere al servizio per ricevere i codici dell'attivazione i codici della guarigione la tecnologia avanzata dei nostri fratelli che operano attraverso di te strumento non devi essere pur per essere potente e per essere per poter guarire gli altri devi guarire te stesso non puoi pensare di essere un guaritore se non hai guarito te stesso è un'illusione stai ancora c'è ancora condizione allora devi uscire dal vecchio mondo fare un salto quantico nel nuovo perché l'energia dei fratelli l'energia cosmica divina il divino amore cosmico supporta te in ogni istante e ora nella questa incarnazione ora qui in questo presente o interagisci con l'universo in termine di legge divina e frequenza o la tua vita sarà sempre up and down allora nelle leggi divina universale c'è il flusso c'è la via della tua illuminazione è possibile la via dell'illuminazione l'illuminazione non arriva così devi entrare con la terra nella tua disciplina nella tua sadana devi sapere come si muove l'energia nel corpo devi respirare con il pranayama con il kriya devi costantemente attivare i codici che muovono i flussi della tua energia kundalini della tua energia divina che ti porta qui in alto è la nostra esperienza ma anche l'esperienza di tante ecco yeshua oggi questo programma siamo in ashram siamo tantissimi io ho detto che facciamo questo programma dove io e Shant abbiamo elaborato insieme e pasqua in Shanti aprendo la radice del divino amore cosmico interagire con yeshua cosmico in questa forma di sananda e interagire con tutta quella parte che non è la morte di yeshua ma è la rinascita di yeshua perché realmente non è mai finita la missione non è la grande bugia che ha portato che abbiamo siamo cresciuti in questa bugia di Gesù Gesù va alla croce vive quell'esperienza lo fa perché lui sceglie di dimostrare l'amore e ci insegna a canalizzare Gesù non era il Cristo Gesù canalizzava l'energia cristica che è il divino amore cosmico e allora è lì che in questo passaggio lui esce da questo momento e si ritira in India riesce a ritirarsi in Kashmir e da quel momento in cui lui ha versato realmente il suo sangue a reale quel sangue era il processo collettivo dove dovevamo arrivare ora due mila anni dopo che grande lavoro e Gesù e Maria arrivano tutti da Sirius Gesù arriva dall'Egitto viene iniziato dall'Egitto è meravigliosa la sua storia ma è ma sono i passi i passi del maestro sono i passi della divina conoscenza perché i passi di ognuno di noi the path of the masters is the path of knowledge that is the path of everyone of all of us let me ask a question I have a few things here because there's a lot to unpack there and I I first want to go back to this beautiful conversation about the extraterrestrials and the timeline and the light and just to put a cap on that from my own experience or choice this is an example yesterday I was being interviewed on somebody's show and I've interviewed about shamanism which I feel is a very profound path of healing and extraterrestrials and one of the questions I received was about the dark beings the those who mean us harm and although I'm aware I don't tell them we can call them asuras asuras asura 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 I shall create so for me in my life I receive for me the highest most benevolent earthly healers and galactic beings I don't have time to focus on these dark beings because it is my belief that we are protected that this earth and humanity is protected I don't believe that harm will come to us or that any certainly benevolent advanced civilization would ever treat us like we would treat each other and I just want to make that point to put a cap on that piece of the conversation that and I hope this is helpful to people but I truly believe that when we focus on the beautiful helpful loving caring beings that are our star brothers and sisters actually our DNA family this is what will create is a benevolent galactic experience we we this experience galactic that we will start well yes 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 absolutely yes 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 la nostra parte, noi siamo in realtà la stessa sostanza di questa creazione. Siamo la stessa sostanza dell'albero, dell'acqua, del fuoco, dell'eter, delle stelle, della prima luna. Siamo l'essenza del sole. E allora, sino a quando l'umanità mangerà ancora un animale, uccideranno ancora, ucciderà altri uomini. Sta uccidendo quella parte di se stessi e allora la guerra cesserà. Ti parlo di guerra, no? Perché la dualità è una guerra. Cesserà quando le anime si uniscono in questa conoscenza e questa onnipresenza, facendo l'esperienza diretta con la fonte. Io posso parlarti di amore incondizionato. Ma la divina esperienza cosmica dell'amore è un'esperienza diretta tra la tua anima e l'anima del cosmo. Quindi il mio consiglio per chi è a ricerca, per chi sta camminando ora, chi è già un livello superiore, non sei arrivato, la tua ricerca inizia ora. Now you actually have, your search starts now. Thank you. The next piece I want to unpack is that about Atlantis and Lemuria. It seems to me that many souls who lived in Atlantis and Lemuria have returned reincarnated to earth at this time. Is that true? And why? Why? Lei dice, sembra che molte anime che sono vissute nei tempi di Lemuria, Atlantis, si sono reincarnate qui adesso. È vero? E se sì, perché? Ma intanto perché il ciclo della reincarnazione non è che tutti si è incarnata da centinaia di vite? So you've had hundreds of lives in the reincarnation cycle. Si dice che per arrivare alla propria illuminazione uno debba... no? I buddhisti parlano di un milione di incarnazioni. Ma questa moksha però ora è più veloce questo, no? Perché ovvio che la coscienza cambia. È chiaro che in questi cicli l'incarnazione, partendo dalle stelle, dalle prime stelle delle Pleiades, no? Hai vissuto esperienze, no? Attraverso civiltà evolute. Ma... e quindi arrivare qui, in questo momento, vivendo quelle... portando con te il seme galattico, perché comunque tutti... E realmente siamo qui per portare la nostra luce a accelerare questo processo di ascensione. E se tu impari sempre di pensare, perché già dentro di te c'è tutto. In realtà è più semplice di quanto tu possa pensare, immaginarlo. Devi smettere di cercare. Questa è la mia visione. Non devi più cercare fuori, no? No. Cerca dentro di te. Search inside of you. E lì, no? Incontrerai la chiave. That's where you get the key. Una chiave dorata che... A golden key. Apre l'occhio che crea i mondi. That will allow you to open the inner eye that creates the walls. No. Non la sentiamo. Non ti sento, amore. We can't hear you. Forgive me. Yes. Another piece that I want to talk about with Sivananda is about dreams. Dreams. And something that has happened to me since being at the ashram. Qualcosa che è accaduto da quanto è stata qui all'ashram. Ah, yes. Mm-hmm. It's so hard to explain, but... Chi c'è da spiegare? Before the ashram, I feel like sometimes I would dream, sometimes I would not dream. You would not dream? Yes, that's correct. At least that was my experience. Sometimes I remember to dream, sometimes I think I didn't dream. Sì. Allora, delle volte pensavo che avevo sognato. Delle volte le sembravo che non avessi sognato nulla, no? Mm-hmm. But once I was at the ashram, and since... So it's been three months, so this is a good litmus test. You know, that's how it's stata qui, anche durante... It's stata qui. Mm-hmm. I no longer dream. I leave my body. You leave your body, lascia il corpo. Yeah. And I have experienced past lives. Passate. Concurrent lives. Vita attuale. Yeah. Vita attuali. Mm-hmm. I've seen other careers that I've had. Vista altre carriere. Mm-hmm. Mm-hmm. And I... I once received such a beautiful experience. Viva una bellissima esperienza. I was being very snippy, very... A little bit short. Sì, era un po'... Come si dice? Un po' di poche parole, forse. Mm-hmm. Because I had been very... I had been physically in a lot of discomfort, and so I was very short with my partner. Lei... Ah, un giorno era... Aveva dei problemi fisici, è rimasta un po' sulle sue con il suo compagno. Mm-hmm. Mm-hmm. And he very kindly pointed this out to me. E lui gliel'ha fatto comprendere, un uomo molto gentile. And when I went to sleep... They... Mm-hmm. Whomever they is... Loro... Però non sa che era loro, che fossero loro... Loro... Me hanno fatto vedere... Le hanno fatto vedere... The literal inception... Mm-hmm. Of... La nascita. Mm-hmm. Of a reaction, or a thought. And how that choice, literally, created, all the way down to my behavior. All'inizio, diciamo, del suo comportamento, no? il pensiero che crea tutta la catena di eventi diciamo fino a questa esperienza può colpare and in that moment in my sleep experience I laughed ah, durante il sogno si è messa a ridere quando ho visto tutto questo because we talk about beliefs but in that moment I completely understood how we truly create everything e lei in quel momento ha veramente capito come noi creiamo veramente tutta la nostra realtà attraverso il nostro credo quello che crediamo pensiamo and when I woke up even though I was still in physical discomfort e quando si è svegliata anche se ancora aveva dei problemi fisici I was in a lot of joy aveva tantissima gioia ha sentito tantissima gioia and I apologized to my partner for my behavior si è scusata con lui del comportamento che ha avuto e lei da quel momento in poi ha capito con un touch interiore come lei sceglie ogni cosa ogni esperienza and to wrap it up this has been my experience since the ashram that I feel that I leave while I sleep and I receive lei lascia nel sogno e riceve durante i sogni questa è stata la sua esperienza I can only say how magnificent it is and how grateful I am quanto è grata e quanto incredibile questo è per lei volevo dirti una cosa he would like to say something share la tecnologia che tu realmente che io rilascio attraverso le mie i miei strumenti è una tecnologia che si muove attraverso codici che rompono aprono dei sigilli che danno la possibilità attraverso frequenze e codici so through light codes and frequencies he does that realmente dove la tua mente si abbandona subconscio la tua anima inizia a liberarsi e a viaggiare nella supercoscienza so your mind sort of surrenders to your subconscious and frees your soul and your soul is finally able to travel into i tuoi sogni realmente hai ricevuto dei codici e questo sta accadendo a tante anime della famiglia dove come ho detto prima realmente il sogno è la tua anima che viaggia attraverso dimensioni quando impariamo a liberarci da questa da questa catena che ci blocca e non ci dà la possibilità perché sono degli strati dove realmente sono veli connessi all'illusione questi codici rimuovono quei veli attraverso attraverso e realmente quello che tu manifesti attraverso i sogni sono realtà create da altre dimensioni ma che tu te le trasporti e puoi spostarti da un punto dall'altro realmente visitando quel posto va vivendo e ritornando anche indietro in quel viaggio che hai fatto questa è la coscienza che apre la via dell'illuminazione attraverso l'unione attraverso le leggi divine quindi nuove tecnologie ovviamente non può essere aperta all'improvviso è un codice per volte perché questo tu devi ricordare devi integrarlo questo questa è una delle mie tecnologie di guarigio di guarigio grazie per averlo accolto grazie per benvenuto questo grazie grazie e molto più è una bella esperienza mi domanda se ha la patienza e la band per solo 4 più domanda e possiamo essere breve for quattro domanda per la serie thank you thank you thank you i want to ask about probable pasts and probable futures so if i understand correctly yeah if i understand correctly we don't actually have a past we decide on a past based on our perception and our choice of consciousness and then those facts become our past or our stories our wounds and let me let you translate yeah so there are many malleable pieces to the past as well as many choices can we choose a past instead of wounds and stories that actually supports us and if so how could we create a magical free exciting past or future what would be the tools e dice sembra che il passato sia questa cosa molto no dove ci sono scelte così via possiamo creare un passato che ci aiuti invece di creare tutto questo dolore questa sofferenza e come facciamo e lei parla anche di un futuro non è solo del passato che parla allora intanto iniziamo a trasformare questa parola passato futuro questo crea condizionamento e crea anche flussi di dualità so it's part of the conditioning and it creates sort flows in duality or duality realmente quando siamo in un flusso di consapevolezza cosciente stiamo imparando da questa energia che quello che conta è solo il presente il momento presente la parte futuristica che è che è connessa che è connessa a uno disequilibrio anche del nostro divino maschile crea proiezione quella proiezione diventa dualità il passato osservalo con questo presente che è esattamente come dove sei ora è l'esperienza che abbiamo vissuto nel nostro passato ti hanno portato qui ora e è inutile pensare a vivere quell'esperienza del passato e a continuare a essere vittima carnefice di quel passato and to be in victimhood because of the past quel passato crea autosabotasmo sabotaggio dentro di noi quell'autosabotaggio fa parte di una condizione del passato allora se noi se tu sei divina coscienza il tuo presente si muove attraverso le leggi divine universali il pensiero è creazione i tuoi pensieri si connettono al flusso dell'universo attraverso le leggi divine e la mia mente si connette al flusso dell'amore del cuore del divino amore la formula pensiero cambia e crea realtà di abbondanza luce e amore attraverso il pensiero creatore poi c'è la parola la parola che manifesta attraverso la divina coscienza la parola che manifesta attraverso la divina coscienza la tua azione coscienza la tua azione connessa azione parole la forma la forma pensiero la forma parte dalla sorgente divina della lì realmente cambi la tua realtà non devi dimenticare il passato ma il passato è riprogrammare il tuo presente la tua realtà con il potere quantico della creazione io osservo i miei studenti in questo processo di trasformazione in questi anni l'energia cambia costantemente anche nella mia vita è costante il cambiamento tutto l'universo porta l'energia di Shiva l'energia costantemente della creazione della distruzione non possiamo più pensare nei termini di come l'energia si muoveva cinque anni fa dieci anni fa non possiamo più risolvere con la forma l'energia è cambiata l'energia tutto è cambiato l'energia cambia continuamente i maestri del passato hanno anche non per essere no non è dico questa cosa con il cuore con l'amore i maestri i maestri del passato hanno preparato l'energia per questo momento e gli insegnamenti del passato non possono essere gli insegnamenti di oggi l'energia l'ascensione planetaria la coscienza collettiva il Kali Yuga esce tutto in un flusso nuovo di energia i fratelli entrano perché il Kali Yuga è venuto l'energia la tecnologia cambia la tecnologia spaziale in sei mesi è cambiata completamente sei mesi ci sono tecnologie spaziali dove ci sono già dei contatti dei fratelli dove stanno dando tecnologie ma c'è anche una parte che si muove nell'oscurità perché queste tecnologie possono essere usate in maniera sbagliata come è successo ad Atlantide perché realmente queste civiltà super avanzate a un certo momento hanno iniziato ad abusare di questo potere però c'è la luce c'è un supporto che controlla questa oscurità e che ha un limite che sarà stoppata oltre quell'immodolo non si potrà so there are certain limits they are not allowed to exceed or go over that and I know you brought up Yeshua and Magdalena and I know you're talking about it right now in your ashram with people and my sense is that part of the healing that is to come to heal the planet and to heal humanity is about the rise of the divine feminine can you speak a little bit about Magdalena and the rise of the divine feminine lei dice per lei la guarigione del pianeta a vedere quel divino femminile e Maria Magdalena quella è l'energia se puoi parlare di questo parliamo sì diamo intanto una conoscenza ai nostri ascoltatori di quello che è il femminile in questo termine divino che è Shakti la Shakti è la madre manifestatrice della creazione è chiaro che il femminile risvegliato nell'io sono apre riprogramma i propri codici che si connettono alla divina Shakti e la madre divina il divino femminile è connesso all'utero al potere della Shakti al potere della Shakti Kundalini parlando di Maddalena e Yeshua è chiaro sapete no Maria Maddalena è stata toltta da tutti i libri l'hanno fatta sparire in questo archetipo di un maestro che è il Santissimo non parla nessuno della parte emotiva sessuale di scelte che non parla di scelte di scelte il divino Shiva il divino maschile il potere di Maria Maddalena è conservato nell'utero di ogni Shakti ogni Shakti la Shakti divina suprema è la manifestazione della creazione stessa per far sì Maddalena aveva compreso nella sua ricerca nella sua esperienza che l'energia bilanciata Shiva e Shakti per poter essere manifestazione divina della creazione realizzando lo Shiva interiore si incontra con il divino Shiva che è maestro e Yeshua in questa divina unione non è che in tutte le divinità Vishnu è consorte di Lakshmi divina unione Shiva Parvati cioè realmente tutte le divinità Brahma e Sgaiatri Realmente tutte le divinità hanno questa questa fusione tra il maschile e il femminile e questa è l'esperienza che porta Yeshua e Maria Maddalena che può essere divini Maddalena illuminata attraverso le esperienze che Yeshua le ha portate nella propria e essendo risvegliando il potere divino del femminile non ci può essere Shakti se non c'è Shiva non ci può essere co-creazione se non c'è uno Shiva che attiva Shakti l'energia della Shakti e la divina Shakti non può manifestare co-creare portare abbondanza nella propria vita se non viene attivata dallo Shiva legge divina legge della polarità legge dell'opposto luce oscurità doia amore maschile femminile questa è la comprensione di anime che hanno fatto un grande hanno portato un grande risveglio sulla terra io personalmente nella mia vita sto vivendo questa esperienza meravigliosa con mia moglie dove ci siamo uniti stiamo vivendo questa divina esperienza da un anno e mezzo e con una cura quella cura che l'esperienza ci ha portato a realmente a creare quelle frequenze per questi codici che hanno attivato i codici di entrambi per poter essere uno il divino maschile e il divino femminile in questo momento hanno bisogno di ma quella divina unione del lasciati che porta la cura è interiore prima sempre e poi quando uno shiva e una shakti si unisce nella divina unione perché hanno trovato il proprio equilibrio yeshua maddalena c'era l'intesa l'equilibrio la saggezza e la divina grazia quindi onore alla shakti e al potere della shakti e allo shiva che si sta risvegliando che sta ritrovando se stesso lontano dal dolore uno shiva in questo momento le energie stanno curando quello shiva per far sì che shiva riesci a raccogliere quella shakti interiore quello shiva che abbraccia la propria fragilità piange e commuove parla della sua paura e la sua shakti l'accoglie quindi sono perfettamente d'accordo che la shakti è la guarigione del morto il potere del femminile e ricordati debì un bravo guaritore shiva può essere diventa potente quando ha integrato la sua shakti è una shakti che cura che porta guarigione per essere davvero potente ha bisogno di equilibrare e ha equilibrato il proprio maschile e questo ha bisogno di tanto lavoro ma che richiede molto di lavoro che sono i tuoi sogni futuri cosa sono i tuoi traguardi per il futuro io sapete cosa sto chiedendo perché i sogni dell'amore si manifestano attraverso una profonda devozione io seguo la via della devozione perché la devozione ha portato il frutto nella mia realizzazione di ora e realmente il mio sogno non è individuale nel mio sogno c'è la manifestazione della mia missione la cura del mondo c'è la realizzazione di questo progetto bellissimo che sta prendendo piede ci sono delle bellissime novità quindi tutto si sta e poi chiedo per la divina unione chiedo che la mia famiglia sia protetta questo è il mio sogno un sogno che non è più nell'io ma è nel noi il mondo può guarire attraverso il femminile attraverso la shakti ma attraverso la alla divina unione e e le dignità nasceranno con un cuore pulsante all'interno di questa comunità che deve essere spirituale new age ma radicata con la terra con le radici di madre terra con la cura di madre terra dove i nostri figli crescono liberi e felici dove il bambino cresce con il saggio e la scuola è il saggio per il bambino e la comunità la the city of new life la luce l'ashram è l'esperienza e quando tu vivi in un flusso io sono quattro anni che vivo così in questi quattro anni ho dovuto trasformare tantissime cose perché un progetto ha bisogno di essere sempre trasformato ha cambiato tantissime energie ho mosso tantissima energia karmica per lavorare nel collettivo nel femminile nella shakti portando tantissima trasformazione e unire unire i cuori questo è il mio sogno il mio sogno è aprire i cuori delle anime dargli la felicità la gioia la guarigione perché tu meriti di essere felice you deserve to be happy yeah well I'm going to translate now lei farà una traduzione ok ti amo ti ringrazio per il bellissimo e estanzibile lavoro c'è sfogli e giro per il mondo per aiutare così tante persone in un momento così importante ti vido mio amico e mentore e i just told Sivananda i love you i thank you for the beautiful tireless work you do around the world to help so many at such an important time i see you my friend and mentor thank you thank you thank you for for your presence in this world thank you for service for this world thank you for new consciousness in this information i love you so much thank you thank you and Shivanyama thank you for your amazing work and for the entire team in the ashram and just to let folks know who are listening if you would like to do his online program if you would like a darshan your own private healing or just saying he also does couple healings if you would like to go to the ashram and experience this magnificent work and healing in person go to shivananda.org s-h-i-v-a-n-a-n-d-a.org and i end today's show with this quote from shivananda swamiji who you were just listening to often in the hustle and bustle of daily life we forget our true purpose in nature but if you can set aside external distractions and look within you will discover an inner wisdom that will guide you toward your destiny the highest part of your soul resonates with your true essence with your divine soul it is that part of you that is in tune with the universe and your highest purpose it is that part of you that drives you to pursue your dreams and live a meaningful life co-creating in the new world to embrace this part of yourself and live your dharma you must learn to connect with your higher self listen to the inner voice that guides you and shows you the way trust your intuition and follow the flow of life without resistance by learning to let go of control subscribe to this number one transformation conversation your weekly dare to dream podcast leave a comment and share it with someone you know will love this conversation and if you're listening to us on one of the many major podcast sites but you'd like to see what we look like and I suggest you do go to youtube.com slash debbie dashinger and watch this next week on the show I am so proud Tim tactics is going to be here from Germany you've seen Tim on multiple Gaia TV shows he's a tactical advisor and analyst with a covert sector of the German government and he has direct contact experiences with more than 10 different extraterrestrial species specializing in information based upon over 100 face-to-face meetings with the grays and through his experiences Tim gained information on a conglomerate of ETs working with timeline manipulation genetic seeding and historic intergalactic conflicts so we're going to go there folks be sure to be on that journey as well and remember of course everything you learned here today I think the bottom line takeaway with all the magnificence we heard and I think all the transmissions we received energetically from Sivananda it's really heal yourself first heal yourself so you can be the light that you came here to be you you